Il quartiere Lorenteggio via Marzano 4. L'assessore Mazzinzoli ha annunciato che parte la riqualificazione del Lorenteggio. In realtà finalmente dovrebbero partire a breve i lavori di riqualificazione di questo cortile, che oggi, come vedete, è tutto sigillato, completamente chiuso, perché le famiglie che vi abitavano sono stati trasferiti e ai proprietari è stata data una permuta. Siamo felici che finalmente partiranno i cantieri di Marzano 4. Il problema però qual è? E lo vedrete con le immagini successive. Che non si qualifica un quartiere perché si riqualifica uno stabile. Qui accanto c'è il degrado più assoluto. Quindi io spero e conto che il nuovo assessore non sia il chiacchierone leghista che abbiamo avuto fino a qualche tempo fa e passi, oltre che a Marzano 4, ad accelerare i lavori su tutto Lorenteggio perché è un quartiere totalmente abbandonato a se stesso e dove bambini e ragazzi vivono tra spacciatori e delinquenti.